Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono detti sì, con un matrimonio folle e bellissimo organizzato appena in un paio di settimane. Se la cerimonia a sorpresa sono ormai un must per le coppie del mondo dello spettacolo, la bellissima showgirl brasiliana e l'inviato di Striscia la notizia hanno deciso di introdurre un nuovo trend. Le nozze Lampo, decise all'improvviso per approfittare della presenza del papà di Giuliana in Italia. Le nozze sono state celebrate con rito civile a Palazzo Reale a Milano. A unire in matrimonio i due innamorati è stato il sindaco Giuseppe Sala, con tanto di violinisti per rendere ancora più toccante il momento. Giuliana è apparsa splendida in un lungo abito bianco da favola, cucito su misura per lei. Sia la Moreira che Stoppa si sono divertiti a postare foto e filmati nelle ore precedenti la cerimonia. Dal Brasile, oltre al padre, è arrivata tutta la famiglia della conduttrice di Paperissima Sprint. Decisa la data, i due personaggi televisivi hanno faticato non poco per pianificare tutto in una manciata di giorni, senza farsi comunque mancare un matrimonio da favola. Siamo due pazzi, abbiamo mandato gli inviti agli amici via WhatsApp con un videomessaggio per dare un tocco personale, raccontavano l'annuncio ufficiale delle nozze, e il tema sarà Italia-Brasile-Mundo, le nostre origini e la nostra passione. La Moreira e Stoppa sono uniti da ben dieci anni. Il loro amore è sbocciato sui set dei programmi di Antonio Ricci ed è stato cementato dall'arrivo di due figli. La primogenita lo Sofia ha sei anni, mentre poco più di un anno fa è nato Sol Gabrielle. Proprio la bambina è stata colei che più di tutti ha spinto per il matrimonio dei genitori. Nostra figlia ci diceva sempre. Ma quando vi sposate? Chi se ne frega!